ciao a tutti oggi parliamo di prodotti per capelli ho ricevuto recentemente da recentemente non molto da un mesetto o due questi prodotti di regrows ovvero shampoo balsamo e trattamento anticaduta sto usando da un mesetto mi ci sto trovando molto bene i capelli sono molto più morbidi più lisci più setosi più fluidi ma anche più forti sono tutti prodotti naturali orrianici vegani e cruelty free infatti non hanno né parabeni né sulfati lo shampoo gli ingredienti che leggiamo qui appunto sono cocco basilico piottina mandorla e olio di rosmarino per quanto riguarda il balsamo invece il disco trigonella e salato di frutta e olio di albero da te in ogni caso servono per diminuire la caduta del capello infoltirlo ispessirlo e ovviamente migliorare anche la salute che come già detto sento i capelli davvero più curati nonostante non stia usando maschere trattamenti oltre a questi shampoo la proprietà di spessire i capelli mentre il balsamo più per dare volume al trattamento come già detto per la caduta e per stimolare le acute di solito inizio col trattamento il trattamento questo è specifico per le donne ma c'è anche quello per uomo e questo trattamento è composto così prima si utilizza lo stimolante del cuoio capelluto applicando togliendo questo mettendo questo come pettinino e spremi la bottiglietta e lo passi col pettinino sui capelli dopo una mezz'ora puoi passare al siero basta mettere qualche goccia sul palmo della mano e spalmarlo sulla cute sui capelli specie se c'è qualche zona dove magari c'è un po più di caduta dei capelli e si fa agire un 60 minuti o anche tutta la notte per passare allo shampoo sciacquare con lo shampoo normalmente come si usa un shampoo normale e poi si applica il balsamo si fa agire un paio di minuti sono tutti i prodotti che valgono per tutti i tipi di capello sia per uomo che per donna tranne trattamento che questo è precisamente per donna ma c'è anche quello per uomo come ho già detto vi sto trovando molto bene io ve li consiglio lasciate un like un commento e vi consiglio veramente di provare questi prodotti fatemi sapere la vostra nei commenti a presto buongiorno ragazze anche oggi abbiamo una ploma non so se avete visto il video il post di regrows andatelo a vedere nel caso l'azienda non ha lasciato il codice 10 per cento quindi se usate il codice maria 10 avrete il 10 per cento sui loro prodotti